Ciao a tutti, sono Matteo Padovanna e sono insegnante di chitarra qui alla squadra di musica moderna di Viglia Stense. Ho iniziato a studiare chitarra in questa scuola all'età di 9 anni e il mio percorso di studi mi ha portato da qualche anno a diventare insegnante. Il mio metodo di insegnamento prevede di partire dai gusti musicali dell'allievo sviluppando un percorso completo per facilitare e stimolare lo studio, senza però trascurare quelle tecniche stili che gli consentono di diventare un chitarrista completo. Insieme possiamo approfondire diversi aspetti della chitarra acustica, come ad esempio la tecnica fingerpicking. con la tecnica pletrodita. Oppure possiamo adentrarci nello studio di diversi brani dei più grandi chitarristi che hanno caratterizzato gli stili della chitarra elettrica, come ad esempio slash. Ho stipri di voga. Bene, ti saluto invitandoti qui alla SMM per una lezione di prova gratuita.